Now, say my name in coppia, quindi abbiamo un diretto, proviamoli e io mi prendo sempre poco Allora, questo abbiamo giocato già prima Sto giocando giù sui 5 secondi e vedi un po' come era e il presidente consiste nel fare gol nella cosa avversaria Si, esatto Però ti go col kung fu Ah, valla sta qua, ecco la risolta Oh, la tira Lo faccio, lo faccio Ma perché non salta più? Rete... Ancuno No, non l'ho fatto Ah, si? Boom Ma perché? Taccimia 2 a 0 No, 1 a 0 perché se caschi dentro l'asco in pratica ti toghi un gol Oh, mo, lo faccio, ma Piala Vaffanculo Ma me l'ha tolto, perché si e continua a cascare Ma me l'ha detto preso Vaffanculo Golle, golle, golle Sì, ma guarda, dove vai? Oh, oh, lo supera Oh, attenzione E' eccezio Vaffanculo 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 Allora, questo consiste nel prendere il coso nero Cosa nero che sta Però il fatto è che noi dobbiamo controllare due cosi con tutte e due le levette Quindi è un casino di impici Oh, 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 oh Mortacci Eccolo No, che cazzo Mamma mia, scappa, scappa, scappa Noo Sbam Sbam Pentri quando si riempie tutto quel coso di viola Eeeh Ha vinto lui Eeeh 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 Perché questo sto resistant Eeeh Eeeh Grazie Cacera Cosh è tosta oh 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 attenzione infame infame oh in mezzo a due in mezzo a due un'altra volta ancora di nuovo cazzo ci ha provato non riesci neanche a passare in mezzo a uno di nuovo in mezzo a due di nuovo in mezzo a due di nuovo sto cazzo oh 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 e' tosta questa è bella volta oh 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 e e e e e e e e e cazzo oh grande grande bomber no cazzo fa un timore sul suo se ci vado aiuto oh fintone ho 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 o basta basta questa affari coi da qui oddio oddio oh ン mia non so terriba orosioomo oh vai 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 no cristo addio si 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 se Sebbze sebbze capocciaronos aiuto no no sta in coglione pure io oh addio oh le skiller 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 moltaccia ovviaggi vabbia no 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 perché mamma mia nooo ed ecco l'ultimo gioco della serie stat game anzi vado... no vabbè vado qua agab io sono marco eeeh io me prendo ramiro ramiro meccicano vai vai eccolo questi sono i piselloni oh subito si questi sono i piselloni tocca prendere questa sfera oh 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 di nuovo che cazzo faccio oh se ne va se ne fa vaffanculo vialo vai marco vai marco vai marco di nuovo oh che cazzo grande grande non so cosa sia successo oh te bonus ma che cazzo è sta cosa oh fermalo oh oh ma che cazzo è sto coso boh no 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 l'anima delimo no 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 nooo come va attivo la mattina come neVega no 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 mi sei cascato grande non lo so ma io la come prendo. un volo supera 1.1 muovi male muovi male muovi male lezione grande va bene così non è che a scattare lui non è che a scattare dai bisellone su dai bisellone dai bisellore tacci tua spam no ma che cosi olè lo salva salva in corner salva in corner dai che cazzo hai capito oh mannaggia olè olè ancora di nuovo vai a bomba vai a bomba ancora no basta no no grande ancora no i mai 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 un po' mi come adegu un po' un po' un po' un po' ancora ancora lupo no no non è che cazzo è stato un po' ma guarda che frocio che sei vabbè ragazzi speriamo vi sia piaciuto questo genere di giochi che comunque sarà figo quindi giocateci con amici perchè pisellone c'avete se il station plus mi l'ho scaricato perchè è gavis quindi vieni è figo come gioco si è figo è vero vabbè dai granonass è tutto da giustans è tutto dai piselloni froci è tutto passate sulla pagina facebook commentate lasciate like condividete il video se volete seguiti i nostri profili di storie a giù su è finito con il suo spezzo dicono guarda sto pezzo di mare se lo faccio un'altra volta faccio rimedio vabbè chiuso bella